Vittorio Lazzari subito dopo il collegio è entrato in questa casa di tiktoker Dove per motivi probabilmente di gelosia dei confronti dello stesso ragazzo Ha litigato in maniera molto molto pesante in diretta come vedrete adesso Con una ragazza di nome Aurora Uscendosene però il giorno dopo con delle foto con del sangue al naso e alla bocca Scrivendo frasi come questa non è casa Che ci sia stata un'aggressione nei suoi confronti Vi lascio filmati e voglio sapere poi la vostra opinione qui sotto con un commento Noi ci vediamo alla prossima a Lignano Studio Non hai chiamato, non sai dialogare Si sta parlando Non sai dialogare Non sai dialogare Mi sono da minacciare Mi fai ridere 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 Boia Larissa se mi alzo questa è morta cazzo Quanti anni hai? Quanti ne ha quella? Grazie come te Quanti anni? Quanti anni? Ma che è un trampanolino? Oh sì No 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 Sir Silvio 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 Ti guarda qua il video Silvio Tira facci Tira facci Tira la verità No raga No raga Io l'ammazzo Adesso si tira i capelli Basta, basta ragazzi!